La pesca è fatta anche di questo, non è che ogni uscita ha successo, anzi è fatta soprattutto di questo, di esplorazioni, di pescate a vuoto, di cappotti, di volte che pensi di avere capito tutto e invece arrivi sul fiume e il fiume ti smentisce e non vedi un pesce, quindi l'importante è non demoralizzarsi e non mollare. L'unico modo per avere i risultati compostati, non mollare mai. Che mostro! Che mostro!